Un vecchio contenzioso rischia di trasformarsi in una pesante tegola sui conti dell'Asla di Lecce, una tegola da 13 milioni e mezzo di euro. Si trascina fino in Cassazione la guerra legale che vede schierati da un lato la TSHSRL e dall'altro azienda sanitaria Regione Puglia. La storia è lunga e contorta e per capirla bisogna fare un passo indietro. Nel 2000 la loro Asla Lecce 1 ha affidato alla società Servizi Informatici per la gestione di reti e raccolta dati. Nel contratto le parti hanno stabilito che eventuali controversie sarebbero state definite davanti a un collegio arbitrale e quando sono puntualmente arrivate il lodo ha riconosciuto crediti vantati dalla TSH per oltre 30 milioni di euro. Da dove provenivano? L'azienda aveva contestualmente in piedi due rapporti, uno con l'Asla e uno con la Regione. Ma mentre il primo fu consacrato con contratto scritto indispensabile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, il secondo no. Di conseguenza le attività svolte per via Capruzzi di raccolta di dati su mobilità infrarregionali ed extraregionali delle prestazioni sanitarie nel 2008 sono state considerate dal Tribunale di Bari come eccedenti e dunque da non pagare. L'anno dopo però TSH ha chiesto che di quelle prestazioni effettuate per conto della Regione se ne facesse carico via Miglietta. Il giudizio arbitrale è stato per lei vittorioso riconoscendole un credito appunto di 31 milioni 735 mila euro. Quest'esito tuttavia è stato impugnato poi davanti alla Corte d'Appello. Il risultato? Una sentenza di 180 pagine nella quale, come ricostruito nella lettera inviata dall'Avvocato della Regione Giampiero Rossiello all'istituzione, a fronte di quel lodo i giudici hanno riconosciuto un credito della TSH pari a un terzo, vale a dire pari a 9 milioni e mezzo di euro più un altro milione e 200 mila euro per interessi, somme che comunque la ASL avrebbe già coperto soprattutto pagando le pendenze della trend sviluppo holding con Equitalia. Depennati invece 13 milioni e mezzo di euro vantati nei confronti della Regione poiché non trovano la loro fonte nel contratto scritto. E' per questo che ora si andrà in cassazione. La società a quei soldi li rivendica e ha presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello del 16 aprile 2014, sentenza quest'ultima impugnata tra l'altro a novembre anche dall'ASL nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo proposta dalla Regione. Dunque si va ora allo scontro finale con in ballo una cifra milionaria.